Passi a sedere in mensa? Io sinceramente vivo più serenamente il momento del pranzo. Per me è risa al salmone, per favore. Invece io ho ordinato il mio piatto grazie all'app, che mi avvisa subito quando è pronto. Niente più vicini di posto gomito a gomito e nessuno scambio di matite.